Si tratta di ieri, per questa seconda giornata di Corona che è a domicilio, abbiamo in collegamento da Sassari Stefano Sardara, che è il presidente della Dinamo Banco di Sardegna di Baschiet. Buongiorno Stefano. Bentrovato, ci ritroviamo in un momento che è un po' difficile per tutti noi e soprattutto ci ritroviamo mentre tu stai in quello che in questo momento è l'epicentro sardo della crisi. Dunque la prima domanda che ti faccio nel salutarti è qual è la sensazione che in queste ore, in questi giorni si respira a Sassari, immagino ancora più difficile e angosciante rispetto a quello del resto della Sardegna. Entoni, sicuramente le Sassari in questo momento rispetto al resto della Sardegna ha una quantità di contagi nettamente superiori. Questo è di peso secondo me molto dalla presenza in loco di diverse case di riposo che hanno come ospiti i principali clienti del virus che purtroppo sulle persone di una certa età non risparmia le conseguenze. Per il resto Sassari è una città che si sta dedicando pancia a terra alla soluzione del problema, la cittadinanza la vedo decisamente rigorosa rispetto alle uscite, è ovvio che se tutti noi non abbiamo in testa che soltanto stando a casa risolviamo il problema, da questo problema ne usciremo sempre più in là. Invece secondo me vuoi per logiche geografiche, l'isolamento, vuoi per caratteristiche anche climatiche e vuoi anche per testa tipicamente nostra che su certe cose sa essere molto quadrata, noi potremmo riuscire a circoscrivere il problema che magari nel resto d'Italia è più difficile per gli ovvi facili spostamenti. Da questo punto di vista sappiamo che al di là dell'iniziale shock, dell'iniziale adattamento, in questo momento la risposta sia da parte delle istituzioni nell'ambito della Repubblica e sia per quel che riguarda la risposta in ambito locale, qua in Sardegna e più specificamente nei comuni, ormai la macchina si è avviata e ha trovato anche procedure che presumibilmente sono quelle ottimali in questo momento, tu citavi il distanziamento sociale, le prescrizioni e immagino anche i protocolli per quel che riguarda gli accessi all'ospedale, sia dei malati di Covid e sia per quelli che invece devono frequentare l'ospedale per altri disturbi e altre questioni. Dal tuo punto di vista Sassari, al di là delle istituzioni, tu già facevi riferimento a come la città sta reagendo, è preparata e come ne uscirà da questa emergenza? Con quale gradualità? Nessuno di noi è in grado di prevedere tempi, però insomma in questo momento credo che la pressione su ogni ambito della vita sociale a Sassari sia abbastanza pesante. Ne uscirà solo con rigore, nel senso che se tutti noi non ci mettiamo in testa che la via è quella, la strada sarà sempre più lunga. Hai detto giusto, l'inizio è stato scioccante, nel senso che nessuno di noi l'ha preparato e secondo me onestamente ci sono arrivate poche notizie dalla Cina. Non ci dimentichiamo che l'Italia è stata la prima a trovarsi coinvolta dal virus, mentre invece le altre nazioni hanno avuto, fatemi dire, l'esperienza italiana, dove forse all'inizio non ci credevano, nel senso che pensavano che fosse una esagerazione nostra e noi sicuramente all'inizio abbiamo sottovalutato quello che arrivava dalla Cina, però un minimo di giustificazione la voglio dare all'Italia, nel senso che noi abbiamo avuto veramente poche informazioni rispetto a quello che stava arrivando e non so quanto dettagliate oltretutto. Ora per quello che vedo io le strutture sanitarie si stanno adeguando al mutato contesto, esistono percorsi Covid positivi e Covid negativi, nel dubbio si ragiona su Covid positivi, ci vuole pazienza. Una delle cose secondo me più scioccanti per un cittadino, poi magari era giusto che fosse così, però scoprire che in Italia abbiamo solo 5.000 posti in terapia intensiva, per me è stato strano, nel senso che se mi avessero detto un mese fa, due mesi fa, ma secondo te quanti posti di terapia intensiva sono in Italia, avrei detto 50.000, non avrete 5.000. Poi sono sicuro che questo numero non sia un numero a caso, ma che sia frutto della… E' stato parato su quello che si pensava dovessero spendere via via con i tagli che ci sono stati via via negli anni. Non ci siamo stati preparati, dobbiamo capire che… Speriamo che venga imparata la lezione. Scusami se ti interrompo, però hai fatto un riferimento a come l'Italia, alle informazioni che l'Italia aveva avuto, poi ci arriviamo naturalmente a parlare di sport, a parlare di basket, a parlare anche di ripresa economica, ma una cosa voglio inserirla adesso, io sono tra le cose che più mi hanno scioccato di questa crisi, anche dal punto di vista giornalistico, dal punto di vista di uomo di comunicazione, è stato un breve video che tu hai pubblicato su Instagram la sera della trasferta di Burgos, in cui lì è successo qualcosa di surreale, prima della partita, durante la partita, ma quello che è successo dopo la partita che tu hai documentato con un breve video dal Pullman è una cosa che fa caponare la pelle, cioè i tifosi riuniti tutti insieme e che vi cantavano coronavirus, coronavirus, come se loro fossero, diciamo così, immunizzati da questa cosa, fosse un problema vostro, infatti oggi stiamo vedendo invece qual è la situazione della la sera, cioè io credo che in quel momento loro non avessero la più vaga idea di quello che stava arrivando, noi arrivavamo dalla trasferta a Roma che era stata già di per sé surreale, il risultato sportivo di Roma è frutto del caso, nel senso che vincere o perdere in contesti del genere è assolutamente ridicolo, noi sapevamo benissimo il risultato da parte dei Burgos, perché eravamo tre giorni chiusi in un albergo con la preoccupazione di tornare a casa, sapendo dover attraversare una marea di zone a rischio, tant'è vero che poi abbiamo optato, seppur costoso, per un charter per tornare, charter difficilissimo da recuperare perché nel frattempo le nazioni via via chiudevano i contatti con l'Italia e loro non avevano capito niente, nel senso che non avevano chiaro cosa stava succedendo e hanno pensato al classico, come dire, l'immaginario collettivo dell'italiano, mafia, spaghetti, di mandorino, che volevamo evitare che i tifosi fossero in campo, la cosa che più mi è dispiaciuta, al di là dei tifosi che non voglio giustificare, ma posso comprendere nel senso che il tifoso in quel momento si è fatto trasportare il risultato dalla partita, dal fatto di essere stato obbligato a stare fuori, non c'era informazione, devo mille giustificazioni, chi non giustifico e non giustificherò mai è l'allenatore, perché le dichiarazioni che ha fatto sono gravissime e per un professionista sono inaccettabili. Beh sì, credo che ci sia stata veramente una grande dicotomia tra l'allenatore invece di Sassari, che già dieci giorni prima, quando ancora anche il ministro dello sport diceva che si doveva giocare, io ho conservato un messaggio del ministro dello sport che insisteva fino a due giorni prima che a Cagliari, Italia, Corea di Coppa Davis si dovesse giocare col pubblico, fino a due giorni prima il ministro dello sport. Ora, quando ancora appunto i vertici il nostro allenatore, allenatore di Sassari ha più che il nostro, diceva già, ma com'è possibile che queste prescrizioni valgano per tutti e non valgano per dei giocatori che devono stare a cosa? Se c'è uno sport di contatto è anche insieme al calcio è la palla canestro, com'è possibile che si possa pensare di far giocare, ma non a porte chiuse o a porte aperte? A volte è proprio il buon senso e l'intelligenza singola delle persone che fa la differenza. Dobbiamo avere il coraggio di mettere un punto, c'è un momento nel quale non si può tornare indietro, un po' come nelle relazioni personali, c'è un momento in cui bisogna fermarsi e capire quanto è giusto andare avanti, quanto fermarsi, resettare e ripartire. Questo è il momento di fermarsi, resettare e ripartire. Ecco, entrando nella questione sportiva, poi arriviamo anche alla Dinamo. In generale lo sport è un grande business, è anche una questione di affetto, è una questione di passioni, i tifosi ragionano spesso solo col cuore e alcuni invece sono così disincantati che ragionano invece solo con la testa. Ci sono queste due categorie e poi ci sono quelli che stanno nel mezzo, che cercano di usare il buon senso anche se sono tifosi. A questo proposito c'è una posizione che dice, insomma non ha nessun senso che oggi si parli di sport quando non si può andare a lavorare, quando il PIR scende del 10%, lo sport però ha un suo perché sia nella questione economica, anche nel contribuire a formare il prodotto interno lordo e una base imponibile di un paese e poi è una questione di socialità, una questione di passioni, una questione di svago, tutti i valori positivi, anche l'effetto traino che la Dinamo fa non solo sugli eventi suoi professionistici ma in tutto quello che si trascina con le categorie giovanili, con la squadra per i diversamente abili e tutta una serie di altre cose che fa per il sociale, che spesso non vengono tenute in adeguata considerazione. Quella domanda è questa, siccome bisogna contemperare diverse sensibilità, io non vorrei essere davvero al posto di nessuno, certamente né dei medici né dei governanti né degli imprenditori e men che meno in questo momento anche al posto dei dirigenti sportivi perché prendere una decisione sul futuro con questa incertezza è veramente difficile, in generale dico e sul mondo sport. Ma guarda, è complicato e sarà ancora più complicato, ma credo che noi abbiamo come tutte le grandi crisi che portano gravi danni e gravi problemi e anche grandi opportunità. La più grande per il basket in questo momento è la riscrizione di regole che consentano una crescita stabile e credibile di tutto il sistema e dei club. Troppe volte abbiamo visto società non arrivare a fine stagioni o giocatori lamentare mancanze di rispetto degli accordi durante la stagione. Questo non deve più succedere e questa è la grande occasione per poter scrivere delle regole che anche se il budget dovesse scendere del 20% o del 30% di quello che deve scendere, l'importante è che quello che costruiamo sia stabile. L'ho sempre detto, dei tre porcellini dobbiamo essere quelli che la casa la fanno in cemento. E questa è l'unica via che noi abbiamo oggi. È ovvio che, parlo del basket, ma immaginatevi moltiplicato per i numeri per il calcio. Ci sono dei volumi e dei numeri che non so quanto siano sostenibili, perché quando guardo l'indebitamento del sistema calcio, insomma, fossi io uno di loro qualche problema me lo porrei. Però, insomma, al di là di questo, io credo che noi oggi dobbiamo cogliere l'occasione di questa grande crisi per riscrivere con regole sostenibili un sistema che faccia divertire la gente. Non prendo neanche in considerazione l'ipotesi di non ripartire con lo sport, perché lo sport è vita e non possiamo immaginare… Si ripartiti dopo la guerra e si ripartirà anche adesso. Si ripartirà adesso, siamo partiti dopo la guerra, stiamo vivendo un momento tosto, ma ricordiamoci che non abbiamo nessuno che ci bombarda sulla testa, abbiamo tutto ciò che ci serve a casa, viviamo connessi e vediamo persone che forse prima non riuscivamo a vedere. È dura, certo, la privazione della libertà è tosta e credo che ai giovani abbia insegnato qualcosa che noi ancora un po' nella testa avevamo, perché i nostri nonni e i nostri genitori ci hanno raccontato cosa è stata la guerra, mentre invece i nostri figli no. Oggi capire cosa vuol dire essere privati alla libertà dà sicuramente l'opportunità di riscrivere i valori e la giusta considerazione dei beni materiali. Ecco, si diceva prima, per tornare adesso al basket, poi ho un'altra domanda invece da farti più in generale. La stagione ha segnato due trofei, quello della Supercoppa Italiana che è tornato in Sardegna e quello invece della Coppa Italia che è andato ai vincitori dello Scudetto dello scorso anno a Venezia, ma il 99,99 periodico non verranno assegnati nello Scudetto, nelle Coppe Europee. Credo che questo sia ormai abbastanza chiaro. Sai, su questo si aprono scenari diversi, nel senso che oggi nell'eventualità la Lega riceve lo stop della federazione del campionato o concordi con la federazione lo stop del campionato. Abbiamo un tema di Scudetto, un tema di promozione, un tema di retrocessione. Anche di partecipazione alle Coppe Europee eventuali quando ripartiranno. Esatto, un tema di classifica, però dai, da questo punto di vista quest'anno per la Lega Basket è abbastanza facile per le competizioni europee, perché se tu guardi la classifica partendo dalla fine regione andata, per tornare molto indietro, che è una data che non ha un valore, però giusto per intenderci, al momento dello stop del campionato o al momento o riallineando tutti allo stesso numero di partite, le prime otto sono quelle prime otto. Certo. Quindi non cambia granché. Tema Scudetto. La finalette in tre giorni potrebbe essere quando si riparte. Ma no, l'equità competitiva va assolutamente riservata. Se tu oggi vai a giocare a settembre, a ottobre con una Final Eight, una Final Four, quello che tu vuoi, lo farai con squadre diverse. Certo. Quindi stiamo parlando di un altro campionato. È un po' il tema che ti dicevo prima, c'è un momento di mettere un punto e fermarsi. Io sono del parere che se il Gran Premio si blocca al sessantesimo giro su 90, perché sta piovendo troppo, chi è primo è primo. Per cui oggi, secondo me, è giusto che Bologna sia prima, per quanto noi siamo secondi e ce la potevamo giocare, abbiamo dimostrato di poterli battere e tutto quello che vogliamo. Poi è anche vero che non so se al loro posto vorrei uno scudetto arrivato così. Però, per onestà, devo riconoscere che chi è primo è primo. Chiaro. Torno indietro, prima di un'ultima cosa sullo sport. Dicevamo prima la questione Sassari, ma se allarghiamo l'intera Sardegna, noi vediamo che in questo momento ci sono addirittura virologi di fama nazionale che dicono che la Sardegna è quella che sta rispondendo meglio, sarà per una questione genetica, sarà per una questione del fatto che è un'isola, sarà per una questione del fatto che le concentrazioni sono molto limitate rispetto alle grandi metropoli, anche italiane, Roma, Milano. Quello che dicevo prima. E tutto il resto. Detto questo, questa è una cosa che ci fa vedere un po' di luce, questo però è anche pericoloso perché potrebbe indurre qualcuno a prendere sotto gamba questa cosa e a interrompere quel processo virtuoso che pare essersi innescato. Noi dobbiamo arrivare a due settimane di zero contagi. Se noi arriviamo a due settimane di zero contagi, non voglio dire che ci possiamo permettere di ignorare cosa succede intorno, ma possiamo tornare molto prima di altri a una vita normale. Avremo lo stesso problema per un po' che hanno oggi in Cina, cioè i contagi di ritorno, perché comunque le merci arrivano, qualche aereo arriva e per cui bisogna stare molto prudenti, però una cosa è controllare le coste, fatemi dire, una cosa è controllare la vita normale, che potremmo iniziare a riprendere teoricamente prima degli altri, ma per poterlo fare dobbiamo necessariamente arrivare a due settimane di contagi zero. Dopo possiamo parlare di quello che vogliamo. Tornando invece alla Dinamo, alcuni dei nostri giocatori mi pare di aver letto che hanno fatto ritorno nei loro paesi, altri si stanno allenando in casa. Quali sono i piani A, B, C da qui al 30 giugno? I giocatori in Canada, solo uno di Sean, perché aveva qua la bambina piccola e la moglie, il Canada gli ha avvisato che nella settimana dopo avrebbe chiuso gli accessi, per cui si è sentito in dovere giustamente di riportare la famiglia a casa e quindi niente, soltanto diciamo. Gli altri sono tutti a casa, stanno bene qua, hanno ben chiaro dove stanno e quindi sono felici di stare qua, vorrebbero anche loro essere liberi, per gente abituata ad allenarsi puoi immaginare quanto possa essere faticoso stare tutto il giorno a casa, però sono stati molto dirigenti e molto responsabili, nello stesso modo in cui abbiamo ragionato poi per quello che riguarda il proseguo. È chiaro che è abbastanza probabile che si chiuda qua, però sull'argomento preferisco non andare oltre perché abbiamo un presidente che è Umberto Gandini, che abbiamo appena nominato e che ha insomma tutti gli skill necessari per affrontare in maniera giusta questa situazione. Ecco, anche perché poi ci ricordiamo ogni anno, come dicevi tu, in gran parte dei roster nel basket italiano vengono rinnovati, solo Venezia credo che sia una delle poche che conferma in genere il 70-80% dei giocatori e dunque vediamo poi cosa è ripartire ogni anno, si fa la preparazione, si fanno le partite durante il periodo di preparazione dove le squadre, è un altro sport, io dico sempre rispetto a quello che vedremo in campionato e anche qui se iniziamo ad allenarci a maggio ci vorrà un mese, un mese e mezzo credo per tornare a vedere lo sport, è vero. E pressoché per me la penso molto come presidente Petrucci, di cosa stiamo parlando? Parliamo da cittadini, se tutto va bene noi potremmo immaginare a pensare alla fase 2, penso più a noi che ad altri, ma in generale diciamo in Italia, dopo metà aprile. Fase 2 vuol dire che magari potremmo uscire un po' di più, dovremmo stare con le maschere, mantenere comunque il metro di distanza, tutti quei presidi eccetera. In questo contesto è impossibile allenarsi, è impossibile. Il che vuol dire che, vogliamo dire che questa roba dura un altro paio di settimane? Noi ci troviamo a maggio che riprenderemo ad allenarci, a differenza del calcio noi abbiamo una deadline al 30 giugno che è insuperabile, è un po' come quando oggi mi dicono che le competizioni europee compieranno i campionati, è impossibile, è matematicamente impossibile per me, non da dirigente sportivo, da cittadino, perché se c'è una chance che qualcosa si completi è il campionato domestico, cioè la nazione. Il campionato internazionale dove ciascuno dovrebbe spostarsi dalla nazione all'altra, anche se si portano tutti da una parte, vorrei sapere in quale parte. In questi tempi è impossibile, bisogna ragionare, se proprio lo vogliono finire, dovrà essere in maniera diversa. Parlo del calcio in particolare, la Champions League come fa a ripartire? No, credo anch'io che sia così. Senti, io so che tu adesso ci devi lasciare perché hai un impegno istituzionale alle 11.30, l'ultima cosa, naturalmente ci stanno guardando diversi tifosi, un messaggio per i tifosi della Dynamo, per i tifosi del basket, e comunque per i tuoi concittadini in generale. Il messaggio è, prima di tutto stiamo a casa, che è la cosa più importante, perché dobbiamo arrivare a contagi zero, a risolvere il problema delle case di riposo e mettere tutto in sicurezza, sassali più del resto della regione. Per la Dynamo stiamo tranquilli, ripartiremo, affronteremo anche questa ripartenza come abbiamo affrontato le altre cose, se non ci siamo spaventati nel 2011 non ci spaventeremo nel 2020, dobbiamo essere una squadra in tutti i sensi, perché è necessario essere una squadra in tutti i sensi, ma lo siamo sempre stati e lo continueremo a essere, quindi sarà dura sicuramente, ma non ci preoccupiamo. Grazie Stefano, grazie di cuore per averci dedicato questa mezz'ora, io spero di rivederti presto sul parquet, naturalmente non da avversario, io da tifoso e voi in campo. A presto, grazie e buona domenica. Grazie Stefano, abbiamo concluso dunque qui questo appuntamento della domenica mattina con un importante protagonista non solo dello sport, ma anche della società, Sarda, emerso, lui con tutto il suo team e la sua squadra in maniera molto positiva, anche per i valori che la Dynamo ha saputo incarnare in questi ultimi 10, 15, 20 anni, anche con le precedenti gestioni naturalmente. Era importante sentire anche questa voce, cercare di capire non solo quello che sta succedendo a Sassari, ma anche quello che succederà presumibilmente nel mondo dello sport sardo, italiano e anche europeo. Grazie alle persone che ci hanno seguito in diretta, grazie a quelli che vedranno questa chiacchierata registrata durante il corso della giornata, per chi vorrà saremo di nuovo qua questo pomeriggio alle ore 17, avremo due ospiti, uno sarà il presidente di Anci Sardegna, Emiliano Dejana, sindaco di Bortigiada, Anci Sardegna è l'associazione che raggruppa i comuni, nella sua versione sarda i 377 comuni sardi, e poi avremo anche con lui per un dibattito Stefania De Michele, una giornalista cagliaritana che in questo momento ha un'esperienza professionale in un altro paese europeo e dunque ci darà la sua visione particolare di quello che succede nel posto dove lei sta in questo momento e di come ci vedono da quel posto là, oggi qui in Sardegna e in Italia. Grazie, buona mattinata a tutti, buona domenica, buon pranzo, se ce la facciamo e se possiamo, fin quanto è possibile per tutti noi, cerchiamo di stare a casa e di fare un ultimo sforzo di disciplina. Buona domenica.